La prima seduta con una persona che ha un problema di anoressia è fondamentale, ma prima una premessa. Perché non dico persone anoressiche o anoressiche o anche spesso non dico nemmeno anoressia? Perché entrambe le definizioni conducono a pesanti fraintendimenti. Non sei anoressica, hai l'anoressia nervosa, recita la quarta di copertina del bel libro Il coraggio di avere fame di Rosalia Tomassi. E io sono d'accordo al 50%. Parlare di anoressica, oltre alla evidente stereotipia di genere, identifica la persona con il disturbo. È una cosa orribile, dovremmo smetterla con queste etichette diagnostiche alla tizio è un narcisista, caio è un borderline, sempronia è un'anoressica. La persona è la persona, il problema è il problema. Ma anche dire hai l'anoressia nervosa è confusivo. Conduce all'idea sbagliata che la persona sia una portatrice di qualcosa di materiale, di reale, di fisico. Si parla infatti di reificazione, la tendenza a rendere materiale, a pensare che sia materiale, una cosa astratta. Puoi in effetti avere il covid-19, nel senso che dentro di te c'è il coronavirus. Benché sia già diverso, puoi anche avere il diabete, nel senso che hai una condizione fisica e metabolica oggettivamente rilevabile. Ma non può avere nello stesso modo di questi due esempi l'anoressia nervosa. Perché con l'anoressia nervosa stiamo identificando una serie di comportamenti e al massimo le conseguenze di quei comportamenti. E tu i comportamenti non li puoi avere, li puoi fare. Sì, poi so che linguisticamente potremmo anche dire di avere certi comportamenti e non avere certi comportamenti. Ma in realtà, a parte che dovremmo andare a verificare in quale contesto utilizzare questo tipo di verbo, in realtà stiamo sempre parlando di ciò che la persona fa, non hai un comportamento, lo fai. Ovviamente non diremmo fai l'anoressica, perché potrebbe avere una connotazione giudicante. Dovremmo dire qualcosa come fai l'anoressia, stai facendo l'anoressia, ma questa cosa sintatticamente non funziona bene. Insomma, è un casino. Io voglio andare dritto al sodo ora, però mi premeva questa questione linguistica, perché lo sappiamo che le parole creano la realtà. Quindi, che si fa in prima seduta con un problema di anoressia? Innanzitutto, ci ricordano Nardone e Balteroni che bisogna iniziare con l'indagine accurata di come funziona il problema. Infatti una persona che mette in atto dei comportamenti anoressici lo fa con diverse modalità che presuppongono diverse modalità dell'intervento. Ad esempio, può mettere in atto dei comportamenti di iperesercizio, di begeting, di vomiting oppure che, fino ad arrivare a situazioni in cui sono presenti autoressionismo, uso di droghe o un complesso di percezioni e comportamenti rigidi che spesso vengono definiti come disturbi di personalità o tratti di personalità borderline. Anche in adolescenza, oggi, si tende sempre più a parlare di disturbi di personalità. Mentre si indagano a queste modalità, è bene ripetere ciò che la persona ci dice. Infatti, ripetere, riassumere, è un qualcosa che aiuta a creare l'alleanza. Non vado a fondo per spiegare perché l'ho accennato in altri video, però fa parte della comunicazione suggestiva. E una prima tecnica a questo punto è quella della ristrutturazione della responsabilità dei genitori. Si tratta proprio di accordarsi con i genitori, dopo aver fatto questa indagine, della necessità di fare un ricovero forzato della figlia a fronte di un'ulteriore eventuale perdita di peso. Può sembrare estremo, ma la posta in gioco è la vita della ragazza. Però, paradossalmente, soprattutto, servirà proprio per creare collaborazione con lei. Lei si dirà, infatti, che il compito del tratauta sarà ovviamente quello di cercare di evitare di farle fare quella fine, ma contemporaneamente di farle prendere peso in modo graduale e in un modo tollerabile per lei. E a questo punto ti rivolgi a lei, cambiando completamente registro. Con un dialogo suggestivo, si va a indagare le cose che le piacciono di più, le cose che le piacerebbe mangiare, andando a risvegliare il piacere sopito. Tale tecnica, dicono gli autori, serve a far risvegliare, a far emergere il senso del piacere negato nel mangiare. Tra una parte lunga e fondamentale, a cui seguirà una negoziazione. Si definirà tutto ciò che dovrà mangiare nel corso della settimana, pasto per pasto. Alla fine di questo menù suggestivo si stabilirà con i genitori che dovranno rimanere con lei ad ogni pasto fino a che non ha finito. Non dovranno in nessun modo forzarla, in nessun modo si dovrà neanche parlare di cibo. Resteranno là finché non ha finito e per un'ulteriore ora dopo, per evitare i comportamenti eventuali di vomiting, di overexerciting o di purghe, eccetera. La fine seduta si conclude così. Semplice, no? Beh, insomma. Tecnicamente è semplice, ma la difficoltà sta proprio in tutto l'aspetto suggestivo, tanto che è una caratteristica che nella nostra scuola insegniamo e su cui stiamo molto. Nelle prossime settimane andremo a vedere come proseguire con le prossime sedute. Intanto però, se vuoi, ti puoi proprio allenare con il linguaggio suggestivo, tanto ti torna utile per qualunque tipo di problematica, non solo questa. Se vuoi, puoi andare a vederti il mio ultimo video che si chiama proprio Come migliorare la comunicazione suggestiva.